L'Osteria Flaminio è un ristorante di quartiere, quindi l'arredamento è un arredamento accogliente, confortevole e familiare. I complementi d'arredo provengono da una selezione che i proprietari hanno fatto in giro per i mercatini di zona, ma non solo, e anche siti online di interior design, inglesi e francesi. Proponiamo una cucina italiana, romana, solo un po' rivisitata. Il pesce ci arriva fresco ogni giorno, la carne anche, da una macelleria di quartiere. La verdura ci viene consegnata da fornitori selezionati, mandiamo anche al mercato, mercati di zona del Flaminio e di piastra Martini. Il pane, così come la focaccia e i dolci, sono tutti fatti in casa da noi ogni giorno. Usiamo un olio biologico, questa vergine di oliva che viene dall'Umbria. I salumi e i formaggi vengono da fornitori delle zone terremotate. La cantina è work in progress, abbiamo una carta di vini essenziale che stiamo costruendo poco per volta in linea con i meno. L'idea è quella di una cantina cheap, ma di qualità, con l'inserimento di prodotti di nicchia, biologici, senza polpiti. La clientela dell'Osteria è varia, molte persone di quartiere, ma non sono anche tanti turisti, persone di passaggio, stranieri, persone che vanno al maxi, all'auditorium, che passano tutti per casa, ma ne vengono affascinati. Devo dire che il locale piace molto alle donne, che spesso ci chiedono dove abbiamo preso i vari complementi d'arredo, i piatti. Mi piace molto. Grazie per la visione!